Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video di FIFA 23 e faremo la partita che si sta svolgendo in questo momento cioè davvero l'Inter salernitana l'Inter salernitana che per ora sta vincendo l'Inter 1-0 quindi connettiamo l'Inter per rivenere realistici mettiamo la vera rosa cioè Rambapiontech poi Castanostro a posto di Maggiore che ci è infortunato Daniluk a posto di Bron e a posto di Fazio mettiamo Pirola poi il resto è uguale mettiamo la difficoltà leggenda leggenda e si parte questa è una leggenda quindi può essere che perde oltre 10 a 0 ma va bene speriamo di fare qualcosina leggenda ma c'è chi oh le punizioni sono un po' diverse però io voglio passarla passiamola la Ghiomber la Ghiomber la Ghiomber in questa se ne si c'è oh e la paro no l'Inter non ha la rosa vabbè qua c'è una log ma ancora l'autoharo ancora nella realtà bella dia bella bella no no bello no no barella Lukaku no Lukaku Lukaku seppi lo prende lo anticipa mazzocchi 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 corre mazzocchi prova a salire no 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 comunque non farò la reaction perché ci sarà casino nella reaction almeno la farò nel secondo tempo forse quindi uscirà la reaction prima di questo dopo questo video questo video verrà caricato durante la partita cioè alla fine durante il primo questo video lo caricherò alla fine della partita invece quello lo carico dopo no Lukaku seppi è uscito bellissimo Piontek Piontek la sana mazzocchi eccolo mazzocchi è partito calciare oh Lukaku no fermatelo no l'autoharo no oh fuori gioco oddio mamma che è passato più lunghi no non c'è manco un'ana sono completamente diverso beh la rosa della tavernità non l'abbiamo rispettata no l'autoharo no bella bella bello no Lukaku 4 a 0 ma già non può essere cambiato perché ci vuole ma fa almeno l'alto amma che schifo di difesa no 4 a 0 Lukaku fermalo sempre perfetto Piontek che andrea che andrea bruttissima cosa ui segno no è brutta è bruttissima sta cosa questa azione maggiore non può uscire più uno di recupero che ui va bene finita il primo tempo cioè 5 a 0 4 a 0 allora anzi rifacciamo i film no vabbè non cambiamo non cambiamo perché non posso seguire la partita senza facendo la partita quindi facciamo i cambi casuali come li voglio quindi maggiore non può dare mettiamo bron a posto di fantasiosi posso di tiro ora bonazzoli e butain no è così perfetto in dei casi facciamo spero che siano questi i cambi ma non posso vedere perché comunque ti hai più antaclietro mi scambiano sempre bonazzoli subito bonazzoli subito pure candreva bello sto cross no brutto troppo lungo è anche non dove volevo brutta signor butain posso è andato anche il pistolero cioè la mitaglietta posso il pistolero vai go senza no no è brutta lukaku sepe butain 5-0 sperando che non c'è veramente questo nella realtà però pronto lukaku mamma mia oh devasto il massacro dai 6-0 con questa rosa oh è bella questa dalla cassa no cross perfetto castanosto castanosto fermalo maledetto lukaku oh um lukaku lukaku non penso sia 7-0 questa rosa bella ya è impossibile butain butain oh bella calcio magrissimo deviazione riesce andano vicio la rosa dell'inter proprio non è per niente questo bello questo caso cosa caso vabbè no lautaro può arrivare bella deviazione fuori è entrato a cermi vabbè dai città oh fermalo 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 eh vabbè a cermi un attimo che è successo via ma se che ha fatto maledetto sepe che hai fatto quindi non è vero che le parti le donne a tre minuti ma dai no che schifo sepe no 9 a 0 9 a 0 dai dai facciamo un po' di passaggi se no li vado di sciarletto vabbè vabbè passiamo c'era un po' senza darla a lukaku magari fermo 10 a 0 ma neanche l'anno scorso che faceva schifo e 10 a 0 ole oh oh la leggenda io la leggenda lukaku bello bello per bonazzoli castanos verano che non si era un 10 a 0 perché se no è male no vincenzo oh buono sei oh 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 fermalo lukaku mi dà un bel dratto gol ma che gol ma che gol da bladaric ormai non mi stavo più fare niente non ho perso più 2 più 2 no brutto è 12 a 0 ole no vabbè vabbè alla prossima partita alla prossima carriera l'abbè 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 l'abbè